Ciao ragazze, questo è un brevissimo video perché volevo annunciarvi una novità, cioè l'apertura di un nuovo canale, non mio, ma della mia responsabile, Yves Rocher, al quale io presserò un po' il mio volto, quindi vedrete spesso dei miei video su quel canale e per il momento forse soltanto miei video e spero che poi si aggiungano anche altre persone ad aiutarmi e l'iniziativa è stata presa un po' da me insieme alla mia responsabile perché mi sono resa conto che da quando ho fatto alcuni video su Yves Rocher e da quando ho dichiarato che sono consigliera di bellezza e capogruppo Yves Rocher mi sono arrivate diverse richieste da ragazze che hanno voglia di lavorare con me, che hanno voglia di conoscere meglio questi prodotti, mi è stato spesso chiesto appunto di che prodotti si trattassero, insomma, voi sapete che io non ho mai usato la mia pagina né tantomeno il mio canale per pubblicizzare questa cosa, vi ho anche detto che in realtà al momento sono abbastanza ferma con il mio lavoro di consigliere e capogruppo, l'ho diciamo non accantonato ma un attimino messo in stand by per i vari impegni che ho, però io in effetti faccio comunque parte di questa azienda da tanto tempo e continuo a mantenere comunque il mio gruppo attivo grazie all'aiuto della mia responsabile e quindi grazie a lei appunto il mio gruppo sono anni ormai che è in vita e io sono più di 11 anni ormai che faccio parte di Yves Rocher e voi sapete che io non utilizzo soltanto prodotti Yves Rocher non perché non siano buoni perché io li ritengo eccellenti altrimenti non ne farei parte da tanto tempo di questa azienda ma semplicemente perché da grandissima appassionata di cosmetici e di make up come ormai sapete non mi accontento di prendere soltanto alcune cose se una cosa mi piace l'acquisto al di là del fatto che sia di Yves Rocher o meno e niente volevo soltanto dirvi questo volevo dirvi che mi farebbe piacere se mi seguiste anche sull'altro canale se seguiste i miei video se chiaramente qualcuno di voi ha voglia di lavorare e sono qui a disposizione insomma anzi indirizzatevi sul canale chiedete tutte le indicazioni direttamente a Cristina che è la responsabile ed è anche poi la titolare dell'altro canale di cui comunque nel box informazioni vi lascio il link di modo che possiate accedervi direttamente e basta volevo soltanto annunciarvi questa news e vi chiedo scusa per il mio aspetto sono un po' stanca sono appena rientrato indossato vedete la mia tuta da camera e siccome mio figlio dorme ho approfittato di questi cinque minuti perché volevo comunicarvi diciamo personalmente così a tu per tu questa novità spero che ne sarete entusiasti anche voi lo ne so insomma lo sono perché come sapete a me basta che mi mettete a parlare di makeup di cose di cosmetici eccetera sono sempre molto felice e quindi voglio anche sottolineare che così come ho sempre parlato di prodotti che uso con tanta sincerità anche quando parlerò nell'altro canale dei prodotti di Ivrushy ne parlerò perché sono pienamente convinta di cosa dico e di cosa sto consigliando se un prodotto non mi piace non lo vedrete mai pubblicizzato da me in uno dei miei video quindi come al solito avrete anche sull'altro canale da parte mia semplicemente trasparenza e sottolineo anche che l'azienda probabilmente non sa neanche di questi video che io andrò a fare non sono assolutamente pagata dall'azienda è soltanto che credo comunque in questa casa cosmetica credo comunque nel mio ruolo di consigliera di bellezza nel mio ruolo di capogruppo e quindi sono contenta di prendere parte a questa nuova avventura assieme alla mia responsabile andateci un'occhiata a questo canale e magari consigliatelo se qualche amica insomma cerca lavoro in questo periodo di crisi perché è una buona opportunità di guadagno ora sinceramente ragazze vado a mangiare e ci sentiamo prossimamente baci ciao 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 ciao